Perché scegliere Amada? Perché Amada è costruttore, per cui chi meglio del costruttore può creare una linea di utensili adatta a lavorare sulle proprie macchine. Amada ha dislocato in Europa due sedi produttive, per la parte relativa alla punzonatura e la parte di piegatura. Nelle sedi produttive hanno uno staff tecnico che elabora e costruisce gli utensili su richiesta del cliente e sulla dotazione standard. Amada Italia ha uno staff di persone che si occupa di analizzare le richieste specifiche dei clienti. Il cliente ci invia il suo disegno con la sua lavorazione particolare e noi al nostro interno cerchiamo di trovare la soluzione migliore per poter soddisfare la richiesta del nostro cliente e quindi poterli fornire un utensile adatto alla sua lavorazione per la realizzazione del suo particolare. Grazie a tutti!